amici di corse di moto tv siamo allo spino dove in questo weekend si sono corsi il terzo e quarto round del virus power cus e allora non perdiamo tempo e andiamo a vedere chi ha vinto la doppia dello spino la super classica dello spino ha mandato in scena il terzo e quarto round del campionato italiano velocità in salita 2024 un weekend carico di emozioni che si è aperto con la commemorazione che gli organizzatori il pro spino team il motoclub paolo tordi fmi e il promoter il motoclub poleto hanno voluto dedicare a claudio fioravanti il pilota scomparso qui nel 2022 con oltre 130 piloti iscritti tanto pubblico e un meteo favorevole il programma di gara della due giorni racing allo spino è stato aperto come di consueto dalle moto d'epoca nel gruppo 4 classe standard doppia affermazione per salvatore calabrese e la sua kawasaki il gruppo 5 ha eletto trionfatore della titi mini luciano adami e la sua splendida rohar 82 tempi continua nella tt 250 il dominio del campione in carica nicola fungaro che è uscito dallo spino a punteggio pieno alle sue spalle dolfi e orselli il sabato e orselli e marchetti la domenica podio in carta carbone per gara 1 e gara 2 nella tt sport con jacopo vettori primo emiliano giardini secondo e emo antinori petrini terzo vettori ha siglato per ben due volte anche l'assoluto dell'epoca pierluigi mutti ha vinto gara 1 della two strokes mentre antonello rossi e la sua onda 125 gp si sono assicurati gara 2 carmine matarazzo new entry di categoria ha dominato la tt twin regolando baldessari secondo sia il sabato che la domenica girandola di emozioni nella crono climber la specialità declinata sulla regolarità nella 675 vittorie per simone olio vecchio su onda 600 e gianluca girotto e la sua fidata triumph 675 paolo d'edea a rientro nel campionato e matteo vago su ducati si sono divisi le vittorie nella 1350 sempre nella crono climber ma questa volta classe special vittoria per l'equipaggio sidecar fabio manfredi e tavaroli nelle moderne la classe entry ha registrato ancora una volta la doppia vittoria del campione in carica daniele friff che ha regolato prima verniani e cantarini e poi ancora verniani e bursi daniele stolli ha trionfato nell'under sul podio con lui il sempre presente franco federigi su kawasaki e rientrante marco lombardi su onda morivaki la nate e advent continua ad essere terreno di caccia di stefano manici che in sella alla sua bmw ha avuto la meglio su jacopo vettori e lucio cazzini in gara 1 questi ultimi si sono poi invertiti le posizioni in gara 2 la vera notizia arriva dalle super moto dove domenica daniele tuzzi è riuscito a strappare una manche a carmine mattarazzo che in virtù però del miglior tempo di gara 1 ha vinto comunque la gara terzo posto del weekend per antonio laurea ragazzi qui abbiamo il pilota che oggi nella seconda dello spino è riuscito finalmente a mettere mattarazzo alle spalle daniele tuzzi ciao daniele ciao a tutti ciao ciao mingo ti dicevo fuori onda però io che guardo le gare ovviamente è un po di tempo che penso quando passi cavolo comincia a somigliare a mattarazzo come velocità e infatti oggi una mancia l'hai conquistata una mancia si l'ultima non non ci credevo nemmeno io ancora non ci credo tuttora però è successo ci ho messo tantissimo impegno per arrivare a questo risultato è tosta è impegnativa stai molto al limite però ce l'abbiamo fatta dove si può lavorare adesso per dare continuità a questo risultato e per mordere come si suol dire calcagne e no in modo più continuo a mattarazzo allora la mia difficoltà più grande è il fatto che non conosco comunque le strade quindi per me una novità è questo quindi magari il fatto di andare su strade che già conosco sicuramente mi aiuta sto facendo l'occhio per la strada perché comunque una cosa totalmente diversa la pista e penso che questo comunque piano piano mi aiuta a prendere confidenza con l'asfalti della strada e con un sacco di cose hai fatto bene hai fatto bene a ricordarlo daniele perché il buon daniele ha fatto l'anno scorso la white card a spoleto ma del campionato è un rookie quindi vale lo stesso discorso che fa sempre luca salvadori cioè arrivare e non aver mai visto la strada poi qui allo spino non c'era neanche la giornata di libere e andare subito forti insomma no ci vuole quello che si chiama il pelo sullo stomaco grazie che mi hai paragonato a un grande è veramente tosta e difficile però con tanta passione che ci abbiamo io e il mio amico che comunque mi segue da sempre mi supporta specialmente anche il tuo il tuo il mio uccio ce l'ho anch'io come si chiama il tuo uccio siamo federico federico da ragazzi ecco quindi grande stimolo sta riprendendo ovviamente fuori campo però bravo bravo facci complimenti anche a te perché ci vuoi ma le persone appassionate no perché magari daniele senza il suo uccio tra virgolette capito non sarei valentino della stiamo stiamo divagando bravo daniele e ci vediamo isole liri che è un altro di quei trazzati che devi quindi speriamo bene bravo grazie ciao la 600 super open ha confermato i valori riscontrati a deruta con dal molin due volte primo giorgio mi alle sue spalle tanto al sabato quanto la domenica e al terzo posto igor masenelli e la sua yamaha eduardo rea a podio il sabato è incappato domenica in una brutta caduta risoltasi fortunatamente senza conseguenze luca salvadori ha dominato la super open mille facendo segnare l'assoluto sia in gara 1 che in gara 2 il crono registrato domenica di un minuto 24 secondi e 93 evalso a luca anche il record del tracciato dello spino alle spalle di salvadori francesco piva passato da suzuki a onda e david linite su yamaha r1 200 punti punteggio pieno dopo due gare qui al virus power cvs record demoliti 24 93 nella domenica luca c'è una partenza così nelle gare su strada io credo che neanche nei tuoi sogni più proibiti potessi immaginarla e tu che sei esperto che hai visto tanta gente fare questo salto ti ricordi un qualcosa del genere di questa situazione qua no ma infatti otto detto inizio stagione a derut eduarda luca accontentati un po all'inizio e vince a deruta qui ero un po più confident però qui sera il fatto che non avessi mai visto il tracciato e soprattutto non si può esborare quindi ho detto vabbè farà bene però arrivare a 24 93 strazzando il record di bottalico rifilando tanti secondi a 10 sinceramente ci stai sorprendendo veramente tutti ti ringrazio e sì positivo è certo no allora qui di sicuro era più come dici tu nelle mie corde però all'inizio mi ha spaventato molto di più di deruta come pista molto tecnica molto difficile da capire soprattutto dove puoi usare perché vedi la linea bianca la buca poi ti accorgi che ci passi sopra con una moto molto a posto ci sono le buche ci sono le spaccature nell'asfalto ma non le senti quindi posso andare un po di più posso andare un po di più e man mano vai e diciamo che è andato tutto secondo i piani bellissimo e poi ha introdotto questa cosa che piace molto nel senso che il mondo della salita non è della quello della pista dove i burnout a fine gara no consiglio al parco chiuso ha introdotto questa cosa di far divertire il pubblico già vengono a vederti perché anche qui allo spino sono venuti in tantissimi non so se tu da dentro il casco sentissi perché sei ovviamente congettato ma cioè nel tratto quello lungo aperto dove vedono tanti cioè cominciavano le luca è una roba che non si era mai vista e poi tu li gratifichi con burnout cioè hai portato anche questo aspetto che secondo me piace molto si ho fatto fuori 27 saponette di già no però allora c'è un sacco di gente che è venuto questo weekend dicendomi sono venuto da trieste perché ho visto il tuo video di deruta cazzo sono venuto qui solo per vedere sei salita per la fine è quello e questa roba mi casa molto e cerco in qualche modo di dare un qualcosa indietro perché cioè bello no qui ragazzi lo sapete alle corse di salita il paddock è aperto io ogni volta che passano la tenda ci sono i ragazzini fuori le persone più adulte c'è c'è la possibilità di toccare con mano perché sei molto carino con tutti quindi c'è questo spaccato no rispetto alla pista che non è così qui meno posta sotto il naso diciamo ma è quello che mi piace secondo me io non l'ho vissuta o meno l'ho vissuta per un pelino ai miei inizi però questo era lo spirito che mi piaceva quando aveva iniziato a correre in moto adesso è entrato tutto un ambiente un po più assettico un po più la ricerca della prestazione poi quello che come abbiamo visto a valle lunga vengono fuori quelle gare lì è bello è stupendo ma non c'è questa roba qui la possibilità di venire vicino parlare appunto vedere le moto ma non tipo dalla tribuna alla prima colore ci sono 100 metri ma sia adrenalinico quindi io visto gente tipo non so se mi si metterà vedi tu dove c'era uno nell'erba che teneva il tizio e il tizio fuori faceva il video così la mano mi sarà sarà stata sopra la testa di di tanto così è molto high love man molto high love master bellissimo e poi soprattutto in gara 2 con un po non dico il tramontino ma quella luce lì così con tutte le file di persone dove a ogni curva vedevi delle maniche per venire solo un po le mani perché il resto non lo vedevi vero abbastanza concentrato però me la sono conduta tanto bello si rendono conto venendo dal vivo che sai nei video spiantuti no si fa un po i piaccioni perché il video e poi invece vengono qui e scoprono la persona che nei weekend di gara perché tu comunque la concentrazione e no e pensi a cosa di fare cioè comunque riesco a vedere che sei vero io sto balbettando perché lo stanno chiamando allora bravo luca veramente grande prestazione ti lascio le prevenzioni ciao grazie mille ciao ragazzi matteo lardori unico vero antagonista di salvadori nella cazza all'assoluto ha vinto la classe quad davanti a duccio lardori allora noi tutti qui alla salita confidavamo in matteo lardori per dare battaglia a salvadori ma matteo luca va veramente forte sì ma veramente veramente forte dico la sincera verità ieri ci ho creduto dopo gara 1 fatto 26 e 9 ho fatto il record della strada e quando ho visto il 26 e 9 ho visto ho riguardato l'on board stavo saltando battendo ovunque urlavo c'era la felicità massima perché comunque riusci a abbattere un record di bottale appunto quindi cioè pensavo fosse un tempo inarrivabile quindi c'ero felicissimo che ho detto dai stavolta l'ho portata a casa e invece salvadori ma fregato per mezzo secondo è vero devo devo dire che matteo ti stimiamo molto perché stai facendo i gran temponi e proprio quest'anno che bottalico chiaramente non corre più all'italiano è arrivato salvadori a rompere le classiche uova nel paniere sportivamente parlando però però ti dico tutti noi qui nel pado che anche a casa sanno quanto forte fai andare quel quad perché è vero aspettano salvadori ma quanto si pertono quando passate ragazzi sì 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 no so contentissimo perché comunque allora secondo me io l'ho sempre detto fin dall'inizio del campionato per me è una gran rogna però comunque sono contento perché alla fine diciamo che è bello io l'ho detto anche a salvadori ieri ne abbiamo parlato è bello quando stai lì ti giochi comunque su sul decimo ti sprona fa ancora meglio per l'assoluta quindi è quella cosa che ti sproni un po vicenda quindi per me è meraviglioso poi la spuntano sempre quell'altro e a me non mi tocca mai però comunque per me è bellissimo in più io l'ho sempre detto che un buon salvadori fa bene al nostro sport perché porta un sacco di gente io l'ho sempre detto fin dal prima iniziasse il campionato perché oggi c'era veramente tantissima gente e tantissima gente impara e conosce il nostro mondo della salita della strada e cioè scoprono anche nuove categorie nuove cose cioè dei ragazzi sono venuti a fare le foto da me ma detto no te sei un folle cioè sono venuti a fare fotografie cosa che comunque non era mai successo quindi è bellissimo tardadori sta facendo da volano a questo mondo quindi ringraziamo luca ma l'abbiamo già detto mille volte e voglio dire un'ultima cosa che in questo weekend sia il corso fortissima però voi non sapete una cosa il buon lardori ha passato anche il sabato sera e forse anche qualche ora in più a cercare di sistemare il quad dell'amico giorgio grazie non ci sono riusciti perché pare che il problema sta serio però anche qui no si evince lo con quale mentalità veniate a fare queste gare cioè non c'è sabato sera non c'è fatica non siete sempre pronti ad aiutarvi l'un con l'altro sì 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 aveva un problema mezzo scaricato tutto a posto è andato a parte per fare una ricognizione fermo quindi siamo messi già dal venerdì siamo messi lì a lavorare a cercare il problema sembrava trovato era ripartito proprio non andava bene ho chiamato un mio cliente e l'ho mandato a smontare tutti i pezzi del quadro secondo me potevano essere li abbiamo rimontati sembrava funzionare è partito si è rispento e il problema è grave purtroppo non siamo riusciti però però vince il principio che avete cercato in modo di aiutarlo e quindi bravi ci vediamo a isola dell'Iri sì assolutamente ci vediamo tutti a isola ciao mentre nei sidecar si sono spartite le vittorie gli equipaggi barbie bursi e bottino vigna con manfredi del sarto sempre a podio incidente nell'ultima manche per l'equipaggio di alessandro e delisa bricchi per fortuna senza conseguenze serie ora il virus power cvs si ferma per poi essere pronto a un luglio di fuoco con le tappe di isola dell'Iri e spoleto che senza dubbio cominceranno ad emettere i primi verdetti 2024